Bentornati sul commento le vostre postazioni, la serie in cui esploriamo i vostri setup, prendiamo ispirazione e giudico malamente le vostre build se avete messo le ventole male. Tutte queste cose nel nuovo episodio di CLVP. Vediamo di iniziare, però vi ricordo che la serie di CLVP è sponsorizzata dal nostro configuratore con intelligenza artificiale che vi permette di realizzare build dai 6 ai 3.000 euro in ambito gaming, produttività e ufficio. Ufficio magari con dei budget un pochettino più bassi, ma in generale è la risposta perfetta per chiunque non sappia fare una build e voglia un qualcosa che riunisca le nostre competenze di modern tech, aggiunta l'intelligenza artificiale per fornirvi l'esperienza più semplice nel aiutarvi a realizzare una build. È attivo 24 ore al giorno, è gratuito ed è nel link in descrizione. Allora, per fare un po' di giustizia a chi ha mandato da un po' le postazioni dall'ultimo CLVP che è quello di agosto, semplicemente iniziamo da appunto le postazioni di agosto. Ma Saverio mi hai mandato la camera da letto. Ma Saverio, questo non è un canale di interior design, però devo dire, questo colore neutrale, questo millennial grey molto accettato, si vede che siamo coetanei. Ciao, sono Saverio, ho 32 anni e sono di Bari, ho sempre avuto la passione per il PC, il video che menzionavi il manuale della scheda madre mi ha fatto morire. Ok, vediamo un po'. Allora, abbiamo... Ah, no, ma è un divano, non è una camera da letto. Fermi tutti, errore mio. Era alla sinistra, Emanuel. Era alla sinistra, Emanuel era alla sinistra, posa con la faccetta nera. Bella! No, aspetta, fighissima. Cioè, che cosa pazzesca. Praticamente hai una postazione completamente grigia, cioè tu il grigio lo ami. Con contrasti però sul violaceo e bianco, ok. PC veramente particolare, cable management comunque di tutto il rispetto, perché alla fine rimane sotto un cavo più che più esposto. Spazio veramente minimal, io non so come tu muova il mouse, letteralmente il tappettino è occupato dalla PS5. Case veramente pazzissimo, sembra una macchina uscita da un mondo di Yu-Gi-Oh! GX. Scheda video oltretutto ce l'ho anch'io, vedo che hai una grossa passione per MSI. Credo che questo PC sia un ottimo modo di iniziare, è veramente pazzissimo. Oltretutto cavi a RGB come ce li ho io quelli di Lian Li. Ciao, mi chiamo Luca e ho 13 anni. E a quanto pare mi piace ricordare i momenti della politica italiana con i miei controller. Ci sta, ci sta, già. Beh, allora, già a 13 anni tu hai una postazione migliore della maggior parte dei diciotteni dei miei tempi. Ok, ok, ok. Ok, organizzerei forse un po' meglio la distribuzione delle cose su questa mensola, semplicemente per una questione estetica, ma a 13 anni che te ne frega, ma vivi la vita. Questa Switch che cambia posizione, qui, ora è qui, ora è qui. Abbiamo un volante, abbiamo una tastiera che appunto ancora ricorda dei momenti della politica italiana, poi abbiamo un Xbox Series, no, questa è l'Xbox One X, però quella precedente, giusto? Perché al disco, non è la Series X, è la Series X, non mi ricordo. Abbiamo un case veramente molto particolare, Empire Gaming, cioè è il case più rumoroso che abbiamo visto, non in termini di rumore effettivo, ma in termini di luci. Ok, buon mouse, sedia da gaming super imbottita. Carino, ci hai messo nella foto. Scusa, ti devo dire carino, anche se in realtà sembri piuttosto adulto per la tua età, perché giustamente hai meno della metà dei miei anni. Molto bellino, molto bellino, bravo. Si vede l'orgoglio nella faccia di sto ragazzo. Ciao, seguo spesso il tuo canale per partecipare a una puntata delle vostre postazioni, ti alleggo le mie, sì, plurale. Questo ha più postazioni. Ok, che cosa abbiamo? Vediamo. La madonna, ma tu hai una stanza da gaming. Ma quella è una rogala X. Ma sei così ricco. Io non l'ho vista da nessuno se non in maneggi e storia. Vabbè, abbiamo una postazione veramente figa, veramente figa. Strana scelta di periferiche per la quantità di soldi di cui palesemente disponi. Uh, per cookbook, quest'uomo legge, quest'uomo legge, mamma mia. Ok, ok, abbiamo anche degli orologi, ok, abbiamo una stampante 3D, la vedo sulla sinistra, eccola qui, abbiamo anche una stampante a resina. Attenzione, abbiamo diverse cose, abbiamo Lego. Signore e signori, potete capire che questo gentiluomo dispone di una grande quantità di denaro. Molto denaro adulto e poco senso della restrizione. Ah, però build interessante. Un modello molto particolare di questi a moto, io li chiamo così, case moto, perché è un vecchio termaltake, io questo me lo ricordo, ha qualche annetto, però me lo ricordo bene. Ok, ok, ok. È pochissimo spazio per il mouse, cioè mi mette ansia questa cosa. Vediamo, vediamo, ok, ok. Uh, figo, una postazione da scacchi nella posta, che figata! Ah, tipo una zona analogica praticamente, senza niente di... Molto, molto figa questa cosa, molto adulta, molto bella. Zio, ma finisce, ma questa postazione, quanta roba hai messo? Oh, oh, ma quante cose hai messo? È pazzesco! Wow, ok, collezione di cose di Lupin. Postazione veramente figa! Wow! 100% soldi da adulti, 0% mentalità d'adulto! E non è un insulto, sono feggio di te, però... Wow! C'è pure... Ma raga, ma fermi tutti! C'è pure un setup monoblocco per la palestra. Ma questa è la Man Cave in miniatura definitiva, cioè io ho visto le Man Cave americane, quelle decine di metri quadrati, migliaia di centinaia, se non... Questa è definitiva, cioè questa è pazzesca! Molto figo, molto figo, mi è piaciuta. Ok, Davide invece ci riporta nel pianeta Terra con una sedia in legno. Cozy Jazz. No, allora è tutto in linea? No, mi piace, mi piace. Lui ascolta jazz sulla sua sedia jazz. È molto interessante. Lenovo, mouse così, chiaramente una postazione più pensata per lo studio e per il lavoro. Secondo me sai che questo blu si può contrastare in questa maniera, in qualche maniera per valorizzarlo? Perché è un colore molto intenso. L'anno scorso ho comprato Rogalai, mi hanno sporato ancora di più, seguo il tuo canale, complimenti altri youtuber simpatici. Il 7600X scalda un sacco. Non mi risulta, amico mio. Prova a cambiare... Ah, perché non hai tolto il profilo da 95 gradi, non è che scalda, targhetta in quel modo. Wow, hai uno di quei case ad angolo, con l'angolo perfetto. Ok, cable management, ok. Grossissima libreria, ci sono più parti analogiche, vecchia scuola che digital qua. Molto figo l'ultrawide, non se ne vedono tantissimi di persone che le apprezzino. Molto figo, bravo Domenico. Qui abbiamo Vincenzo che assolutamente guarda il mio canale e vedo che se devi recuperare ancora un po' di video, fallo! Ok, abbiamo un dissipatore stock di AMD, delle RAM RGB, pieno di RGB ma è il dissipatore stock. Tu sì che sei matto. Quella è una B450 e... Ok, ok. Oh, bello, 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 bello. Ma hai cambiato il case? No, hai cambiato solo l'inquadratura. È incredibile come inquadratura, luci e schermo possono fare una grossa differenza. C'è un po', molto bello. Io questa postazione credo di averla già vista. Ho questa impressione. Mi ricordo anche il cable management messo sulla gamba del tavolo, ma mi ricordo Po e il cordless. Ho questa impressione, come un déjà vu, come se fossi già stato in questo posto. In generale, comunque, è una postazione... Secondo me, questa versione qui con la luce è quella che rende meglio. I colori sono anche meglio contrastati. Secondo me, questo apporzionamento di colori è quello giusto. Cioè, meno forte, più contrasto. Giovanni, ho comprato un pre-built di merda dell'HP e l'ho aggiornato. Prima giocavo su un portatile da schifo. Giovanni, sei un MacGyver. No, Gianri Crollati, no, no. Ok, ok, ok. Wow, ma questo è il bidone da gaming! Ehi, ma questo è il bidone da gaming! No, vabbè. Ma quelle sono le Crucial di DDR4 Pro? Sono quelle che girano ora in versione DDR5. Ma è il PC al contrario per far passare i cavi di sé? Io amo queste cose! Però, oh, il cable management non è messo male. Però io ti giuro, amo queste cose, queste postazioni survival così, bellissima. Qui abbiamo la postazione di Nicolas, tema bianco. Ok, molto millennial grey. Pratico non puoi dormire con il fantoccio di... Con il cartolato di Dway Johnson in abito di... Ma è bellissimo! Non puoi fare queste cose! Ma poi con la copertina con i dinosauri e i coccodrini... Siete degli scalmanati, io vi amo troppo! Ma invece neanche un altro! Ma invece neanche un altro! C'è un altro The Rock Johnson! C'è un altro The Rock qua! C'è un altro The Rock Miri qua, è bellissimo! Miglior postazione italiana, basta! Wow! Ah, giusto! Lui al maiale qui ha messo gli occhiali da sole così... Spam! Non gli fa male! Che funziona? Cos'è un ventilatore? Che funziona? Ma... Certo che potevi... Quello che sembra essere uno scotex dalla tua postazione personale nella tua cameretta prima di portarlo per cello e putti! Sei il mio eroe! Ciao, sono Andrea, ho 18 anni e questo è il mio PC! Porca loca! Ok, 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 ok... Come mi è uscito porca loca non lo so, ragazzi! Sì, sono tornato negli anni 80 per un secondo! Build costruita benissimo, c'è pure il tuo liquid freezer con i tubi più tirati che abbia visto nella storia dei tubi tirati, però... Cioè, hai solo ottime ventole, hai fatto un'ottima selezione di ventole che rispecchino il qualità prezzo, bello sfondo, bella la moto Lego, avrei paura di farla cadere ogni 5 secondi in caso di rage quit o cose del genere... No, ma basta signorine con gli attributi giganti, ragazzi, basta, 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 troppo maschilista questa cosa, basta, noi siamo un canale cristiano. Bello, in generale è bello, forse farei sparire, cioè so che è comoda averla lì, però forse nasconderei quella... Ah, ma tu c'hai un termosifone dietro alla tua stazione? Tu hai i piedi più confortevoli della storia in inverno, io lo so, io lo so cosa stai facendo perché lo facevo da piccolo. Ma stai guardando il mio video? No, vabbè, grande. Stai guardando il mio video e poi c'hai in fila Marco Merrino che critica Gigi O' Game. Bello, bello. Matteo è un amante del bianco-nero e si capisce dal... dal cosa e per fortuna non c'è Davide dei Prodigic a commentare con me, abbiamo un sistema di cassa, abbiamo una PS4, abbiamo una postazione in realtà molto carina, sei mancino, come... come ti senti a riguardo? Fammelo sapere nei cominci, cioè nel senso non come sia essere mancino, ma nel mondo del PC Gaming, trovi i prodotti adatti a te, come ti trovi con una tastiera che è tendenzialmente pensata per ridestrorsi? Sarei genuinamente curioso di sapere con la dominante a sinistra come ci si trova, perché so che esistono tastiere per appunto mancini. Moltissima passione per anime e soprattutto manga, potete vedere lì a sinistra, vabbè, giustamente, giustamente la Luffy, ok, c'è anche un One Piece gigante, so troppo poco di One Piece lato manga, devo aggiornarmi. Alessandro ha due postazioni ed è un grandissimo fan della Horus, come potete vedere, e dannazione sì che lo sei, hai due monitor, ok, gigantesco, questo gioco è competitivo, ve lo dico io a giudicare dalle dimensioni del tappetino, ok, beh, questa ventola suprema qua sopra tipo rapimento alieno mi fa spaccare, è una figata. Oh, ok, ok, ehi, l'upgrade, attenzione, no, questo è un altro PC proprio, credo, sì, sì, è un altro PC proprio, ma questa postazione così piccola con invece un hardware che sembra essere migliore, ma c'è pure una barra qui sotto, quanto è scomoda sta cosa, mattissimo, io lo so che questa è la postazione di tuo fratello, adesso non lo guardo nella mail, però ho come l'impressione che qualcuno stia subendo del bullismo, ma mi è stato relegato nella piccola postazione, chiunque dei due sia qui è bullizzato, ve lo dico io, confermo, è il fratello. Omega Omega, che ha una postazionissima pazzurda, abbiamo un cable management mollato a se stesso, un Lego, in realtà, in realtà, in realtà, quella è una TH80S se non sbaglio, la versione quella, non mi ricordo il nome del pittore a cui l'avevano abbinata, ma in realtà è una bella postazione, cioè tolto il cable management sotto, mi fa molto ridere il cestino in cui hai fatto la differenziata in maniera manuale, molto figo, bravo sei ingegnoso, ma in realtà non è una brutta postazione, nel senso, è una postazione che fa quello che deve, ho studiato in posti peggiori. Allora, qua abbiamo Davide Gino che ci manda un corgi che gioca, mette le RAM, sono delle RAM quelle, è una cosa figa. Queste sono le sue componenti, qui sotto abbiamo un cable management elaborato piuttosto bene, sta facendo passare tutto. Avrei scelto una ciabatta nera, per confonderla maggiormente con la quantità di nero che c'è qui sotto. Ok, ok, bella l'arte sul muro così, insomma, abbastanza personalizzata. Giochi a Horizon, molto figo, l'ho finito da poco, molto molto carino. Ok, pannelli fono assorbenti, catata, un porta, quello è stampato in 3D. Ok, penso siano cose tue queste, figo. Ok, quel pugnalozzo lì. Ok, ok, vedo cose figo. È molto pe... Oh, ok, qua hai sostituito, hai messo il tuo corgi gigante. Mi piace, mi piace, è molto particolare come postazione, cioè nel senso non se ne vedono così, molto particolare. Cos'è sta cosa? No, scusate, ho bisogno di informarmi a riguardo. Un Thermaltake Sazer 3. È lo Stricom! Questa è la stessa marca che fa le mie test bench. Sono dei matti tedeschi o astriaci, non mi ricordo, di uno dei due posti. Quanto è particolare la postazione con i vasi inseriti nella pegboard. Che carina sta postazione fa. C'ha quel tono di... Non voglio dire casereccio per non richiamare Zeo Joker, però effettivamente parlando, c'ha quel tono come di un piccolo laboratorio nel giardino, con tutti questi toni che hai creato, il legno, il fatto che ci sia questo case particolare della Stricom, il cugino della Lef. Poi c'hai il portatastiera a estrazione, questa cosa ce l'avevo anche io nelle mie prime postazioni, c'hai le Crocs. Che carina sta postazione. Oddio, 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 stiamo tornando indietro nel tempo. Stiamo viaggiando, fermi tutti. Oddio santo, ma lo vedete sto dissipatore ad aria? Lo vedete? Ma sembra una farfalla? Sono io. No, raga, ma il dissipatore ad aria è una forma di farfalla. Oddio, oddio. E una volta il dissipatore ad aria non battisco se... No, vabbè, raga, ma questo qui è overclockato con l'Intel Core 2. 2-2, oddio, 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 oddio. Ma questi sono screenshot di XP. Oddio, che emozione. Grazie, grazie. Non ho aggiungato, grazie, grazie. Grazie Valerio, è stata veramente una postazione fighissima. Pietro è un survivalist, anche lui. Potete vedere che anche gli piace Minecraft, quindi ci sta. Ok, abbiamo oggettini lì. Cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo, figlio mio? Wow, ogni cosa qui è frutto dell'ingegno. Che meraviglia. No, cos'è questa cosa? Cos'è? Perché c'è un harddisco scoperto dalla parte frontale. No, 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 no. Ma poi dalla parte danneggiabile. Sto malissimo, che capolavoro, tu sei il mio eroe. La postazione viene visitata occasionalmente dal gatto grigio alla scatola di cartone e si vede sotto la scrivania è un terzo PC fatto con Raspberry Pi 4, mentre il parallele P pedo nero è un piccolo amplificatore per il mio set di casse. È un capolavoro! Capolavoro! Bellissima! Queste sono le postazioni che voglio vedere in CLVP, ragazzi. Bella! Siamo proprio passati da un universo all'altro, cioè dall'ingegno all'ordine. Bellissima! Come è ordinata questa postazione? Mi sta grattando una parte del cervello che fino ad adesso era rimasta dormiente. Bellissima l'action figure del signore Ianelli. Bella! Questa è proprio una postazione di un maschietto. Non si può dire niente. Bella! Cazzo! Anche la nuca cola, la pianta. La pianta è vera. Troppo, troppo, troppo verdastro strano. Bellissima! Bellissima postazione! Veramente! Veramente bravo! Leonardo, veramente complimenti! Mi hai grattato una parte del cervello che aveva bisogno di essere toccata oggi. Guardate che carino il mobiletto qua. Valentino, ciao! Un Charizard incorniciato in quello che è il supporto per monitor più piccolo abbia mai visto. Bellissimo il VAPE lì, il ride messo così. Ok, hai una postazione piccolissima. Mai visto qualcuno usare il tappetino in verticale piuttosto che in largo, però ci sta. Assolutamente, probabilmente i movimenti che fai col braccio. Abbiamo un pitch di tutto rispetto, cable management eseguito in maniera magistrale. Niente da dire, ti sei agglindato benissimo per una postazione così piccola. Uh, qua abbiamo un musicista, un artista con tante cose in ista. Bella anche la finestra, ma non credo sia una vasista. Allora, per quanto riguarda il resto, grande appassionato di manga, di fumetti, assolutamente. Non mi ricordo come si chiami la signorina nello schermo, ditemelo nei commenti. Una lava lamp, che fighe le lava lamp, mamma mia. Che belle, che belle. Bella, bella postazione in realtà. Sai che mi hai... Bella. Cioè, alla fine sei in uno spazio molto piccolo, ma è molto personale. Qua abbiamo una postazione che invece ci riporta agli albori di questo canale, con più RGB che luci. Senso, dannazione non giocata al buio. Abbiamo un puff, abbiamo tanti RGB. Abbiamo due PC, ma vedo che sta venendo utilizzato il portatile, non il fisso. Abbiamo due controller, lui non credo nelle console war, ci ha entrambi. E ci conclude così. Carina, appassionato d'auto, sicuramente se magari ogni tanto usi una luce, ci sta anche per la tua salute. Ciao, sono Diego o Ego per l'internet? Diego, hai una postazione bellissima. Quanto è compatta, quanto è pulita. Mi piacciono un sacco i monitor quando toccano il tavolo. Bello, ok, ok. Ah, sei proprio di fianco al tuo letto, cioè tu ti ritestate al tavolo ogni 5 minuti, io lo farei fisso. Sette di piante finte, tranne una, questa qui non è finta, per te, bravissimo, sono contento per te. Abbiamo un'immissione di aria anomala, un po' particolare. Vedo che i dissipatori stock di AMD vanno ancora per la maggiore, nel senso molte postazioni che li includano. E ci sta se le vostre necessità vengono riscontrate. Ciao, sono Nunzio, 50 anni, sono della provincia di Benevento e faccio il meccanico meccatronico. E di famiglia anche da me. Queste sono le sue componenti. C'è un masterizzatore per programmi di officina, ok. Qui abbiamo un 5000D, vediamo subito dall'interno. Abbiamo, ok, mouse di Logitech, cable management che, con il numero impressionante di cose che vedo, è fatto molto bene. L'hai fatto meglio di quanto abbia fatto io, bravissimo. No, è un 5000X, ok. Quindi abbiamo... bene, beh, comunque hai i tuoi RGB soddisfacenti, perfetto. Pam pam pam, oversteel. Io che mi sto emozionando per qualcosa. Va benissimo, va benissimo. Ci sta, ci sta. In realtà è una postazione molto interessante. Con la precedente piattaforma M4 sto assemblando il PC muletto. Vedete, qualcuno che effettivamente riutilizza le cons. Sei fantastico, complimenti per il tuo canale. Grazie mille, Nunzio. Ciao, sono Valentino. Tendo sempre a puntare sulla funzionalità e l'ordine, tralasciando un po' l'estetica. Vediamo subito. Eh, madonna, ma c'hai un PC pulitissimo, oltre che non c'hai estetica. I cavi in realtà sono messi molto bene. Si vede che c'è una forte componente di, appunto, attenzione alle prestazioni, perché comunque è un Arctic di terza generazione, è un liquid freezer. Le ventole puntate sulla scheda video, insomma, c'è un'attenzione generale a tutto quanto. Bellino lo schermo lì sul lato. Bel case in realtà, è molto pulito, nonostante tu non avessi bisogno di renderlo così pulito, perché il case stesso non incoraggia questo tipo di cose. È tutto incredibilmente pulito. Guardate il router appeso sul coso. No, vabbè, che figata. Avrei però fatto passare i cavi sotto alla tavola, e li avrei fatti emergere con un piccolo buco dal retro. Non so se è una cosa che ti torna. Non solo una mia opinione personale. In realtà mi dici che valorizzi più la funzionalità all'estetica, ma qui vedo moltissima estetica ben fatta, oltre che abbia funzionalità. Matteo Bove, che credo che questo ragazzo mi scriva sempre su Instagram, ha una delle pareti più fighe che abbia mai visto. Che bella, che bella, che bella, che bella. Molto, molto figo. Ok, bello, bello. Che bellezza postazione. Ha un sacco di inclinazioni, sto monitor. Ma questo è Project Zero. Ma tu hai fatto un case come quello che ho recensito, è proprio lui, è uguale, è identico. È il primo Project Zero che vedo in circolazione da persone normali, non influencer, o recensori. Che figa sta build, è pulitissima. Ah, non so voi, ma questa postazione mi soddisfa così tanto. È bellissima, che piacere, che piacevole. Cioè, è piccola, ma non è piccola. Non è usato male lo spazio, ha tantissimo spazio. Che bella, bella anche la tastiera. Belli caratteri, gli idogrammi giapponesi. Bello, bello. Tutto molto bello. Mi hai gasato un sacco. Dice davvero un iPad, ma non lo vedo. Ok, però bella. Bellissima, fantastica. Uh, c'è anche una, guardate, c'è anche una pegboard qua. Molto bella, molto bella. Postazione patesca. Ciao, mi chiamo Thomas, ho 12 anni e questa è la mia camera fatta da Gaming Svago. Mi scuso inizialmente per la tastiera. Ho traumatizzato i ragazzini. Eh, ma tu a 12 anni c'hai una postazione migliore della mia a momenti, dai. Ma che imbarazzo. Ma quel bonsai è vero. No, vabbè, no, no. Zio, no, no. Tu non hai, tu non hai fatto il cielo di cotone a 12 anni. No, zio, no, 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 no. No, raga, è imbarazzante. Allora, qua sicuramente c'è l'intervento dei genitori, eh. Niente da dire. Però, cioè, io a 12 anni per una cosa del genere avrei estratto il rene con le mie mani e ve l'avrei conferito proprio così senza neanche esitare. Sicuramente qua c'è un intervento genitoriale abbastanza importante per i tuoi genitori. O tuo fratello, qualcuno ti avrà aiutato. Però tu a 12 anni hai una postazione che è una figata pazzesca. Cioè, ma la vogliamo mettere sta cosa, ragazzi. Questo qui normalmente lo vedi nelle postazioni degli adulti che abbiano soldi da spendere. L'amico è ricco. L'amico è... Ma c'hai il Lego della lingua dei Rolling Stones se non me lo fai vedere. Ma che figata, ce l'ho anch'io. Grande, grande appassionato. Molto, molto bello. Complimentoni. Tu continua su questa linea e avrai una passione da raccontare negli anni. Oltretutto le componenti in realtà sono anche un pochettino indietro. Quindi di per sé non è uno che spende a caso. Tutto fatto in maniera abbastanza logica. Sono molto contento di te. Questo squallo dell'Ikea ce l'ho anch'io. Elisa ci manda la postazione per suo figlio di 12 anni. Che vedo che ha delle foto molto piccole. Ok, guardo il mio canale. Perfetto. Poi abbiamo un controller. Poi abbiamo un Ace Magic. Questi qui li vendevano su Amazon, non me lo ricordo. Allora, io credo che ci sia un mix di interesse del bambino qua, del ragazzino, e una parte di intervento genitoriale. Allora, le foto sono molto molto piccole. Ho un po' di difficoltà a visualizzare il contesto generale. Però appunto vedo che ti sei aggiustato all'interno di uno spazio abbastanza piccolo. Questo è il suo canale YouTube. Che carino, ha 12 anni. Io ho il mio qua sulla destra, almeno credo. Sembrerebbe essere il mio. Sicuramente hai uno spazio molto piccolo da utilizzare e ne valorizzi molto con poco cable management e tanto cable. Ok. Allora, mi dispiace tanto perché le foto essendo ritagliate sono un po' difficili da visualizzare. Però ci sta, nel senso è una postazione molto carina. Per avere 12 anni è assolutamente pazzesca. Qua abbiamo Emanuele che ha 3 PC ma solo uno funzionante. Incredibile momento di magia. Cioè, però bello. Allora, lo sfondo è fighissimo. Io raga, ve lo dico sempre. Lo sfondo, tanto che c'è il quadro elettrico dietro, questa cosa mi fa spaccare. Lo sfondo e gli oggetti che mettete sulla postazione sono l'80% della vostra postazione. Cioè, molto spesso caratterizzano in maniera molto più ampia quello che il... Forse appenderei le ciabatte verso l'alto. Cioè, nel senso, a testa in giù e le nasconderei in qualche modo, Emanuele. Perché c'è tanto, tanto... Tanto cable, poco management. Oh, Fabrizio, io ti amo. Fabrizio, io ti voglio bene. Basta postazioni nel buglio, ci vuole un po' di light. Eccolo qua. Ciao MTT, di seguito la mia postazione. Il mio principio... Ah, avevo letto morto. Avevo letto il mio PC principale morto. E stavo dicendo, zio, mi dispiace. La ringrazio per la sua attenzione, caro signor Mordentech. Vediamo subito. Eh, ma questa è una postazione illuminata. Ci siamo, con una finestrona. Allora, solitamente, in realtà, per le norme salutari degli uffici, non si mette mai il monitor di spalla a una finestra. Però, almeno c'è della luce. Oh, bello il PC. Quanto è piccolo, quanto è compatto. Bella esposizione di vecchi componenti. Che meraviglia. Che meraviglia. Lì ci sono delle Corsair, credo, di DR3. Ok, ok. Fabrizio, c'ha le sue lette iniziali fatte in legno. Cable management ha aggiustato bene. Cioè, nel senso, per il contesto di quello che è, sicuramente ha aggiustato bene. Bello il PC. Colorato, in questa zona, assolutamente. Mi è piaciuto. In realtà, è una postazione molto semplice. Però, al tempo stesso, luminosa, piacevole, personale. Ciao, Alessandro. Sono Pablo. Appena compiuto 14 anni. Mi sono iscritto a un tecnico informatico. Essendo appassionato di programmazione e PC Hardware, anche grazie a te e ai tuoi video. Mi rende solo che orgoglioso, veramente. Grazie di questa nota. Ok, abbiamo... Eh, vabbè. Si iscrive al tecnico informatico. Ciao, lo schermo con la roba di Matrix. Vabbè. Il mio canale, ok, ok, ok. Carina la luce. Mi piace il contrasto della lucina lì, quella calda. Uh, ma tu hai NLG Wing. Sono quelli che si aprono ad ala di cosa. Che figo, che figo. Ok, ok. Vedo che sei proprio un tecnico informatico, nel senso che ti sei proprio chiuso nella tua piccola postazione. Da, che rino. Molto figo, molto figo. Ha una sua vibe. Un po' anni... Primi 2000, no? Ha quella vibe. Un po' figo, figo, figo. Sono contento, spero che la tua passione possa portarti dei frutti lavorativamente e personalmente. Qua abbiamo Pasquale con il suo PC, il suo control, la sua tastiera. Ma quali sono delle easy slide? Cavi arrangiati benissimo dietro al monitor, sfrutta ampiamente quello che sono le sue possibilità per poterli nascondere. Controller a cui hai letteralmente strappato la parte di gomma, spero non in un Rage Quit, ma per tua scelta personale. Non ce la farò mai a leggere il tuo nome. Ah, ok, grazie. Ciao, sono Luigi, in arte Yamato. Grazie di aver scritto Luigi, perché a 13 anni, Zio, io non ti avrei mai letto quel nome, non sono capace, grazie mille. Che figata di sedia da gaming del futuro. Belli, bellissimi i modellini. Che carini. USS Excelsior. Oh, erano piccolissimi, non sembrava. Ok, un altro dissipatore stock di AMD. Ok, cable management un po' selvaggio, ma ci sta. Che scheda video è quella che ha un attacco così selvaggio, scusa. Ah, una 4070 Super. Quella è una 4070 Super. Che forse è una dual. Ok, ok. Asus, sì. Sembra una dual, però dell'altro modello. Ti piacciono un sacco i modellini, le action figure. Sì, cable management un pochettino da migliorare, per il resto ci sta. Tommaso ha una marea di passioni, i dinosauri, gli anime, Star Wars, le moto. Ok, 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 ok. All right, all right. Tanti RGB, ci sta, ci sta. Bel PC. Pulito. Easy. Ti piace un sacco di cose. Bello il coso da girare con le date. Molto carino, molto carino. 12-8, questa, quindi vuol dire che questa postazione mi è emanata ad agosto, scusami, ci sono arrivato ora. Ragazzi, chiudo con questo ragazzo, perché sennò questo video diventa veramente gigantesco. Però non vi preoccupate, tutte le altre postazioni a cui non sono arrivate, sono ancora soltanto a metà agosto. Le facciamo in un prossimo episodio. Non vi preoccupate. Se ce le ho qui nella mail, io le commento tutte. Daniel, di 15 anni, ha una di quelle postazioni che stanno sotto a letto a castello. Molto figo, molto figo. Ok, da piccolo avrei sbavato per una cosa del genere. Ok, ok, ok. Ok. Che figo il monitor che scende da sopra. Molto figo, molto tech. Sei un po' compresso come dimensioni, però ci sta, secondo me, è una figata. Ok, hai proprio utilizzato ogni centimetro di spazio a tua disposizione, perché comunque hai una postazione molto, molto compressa. Ragazzi, sono arrivato al 15 agosto. Quindi, Mauangi, Francesco Pellegrino, Valentino, Matteo... Tranquilli. Quindi, arriverò, c'ho altre 50 postazioni da commentare, semplicemente non mi va di fare un episodio di un'ora e passa, perché dopo un po' diventa noioso oggettivamente parlando. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che nella descrizione di questo video trovate la mail a cui mandare le vostre postazioni per comparire nei prossimi episodi. Pian piano le snocciolo tutte, escono uno o due episodi al mese, non vi preoccupate. Noi ci vediamo al prossimo video. Voi siete stati su More Than Tech. Salamusa! Sous-titrage Société Radio-Canada